Prende il transito ordinario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Vorremmo un sottile di 3, la sua roba stessa è di 1, che è la mia vita di 1. In più, rende il transito ordinario 1, allontanarsi dalla linea gialla. In più, rende il transito ordinario 1, allontanarsi dalla linea gialla. In più, rende il transito ordinario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Secondi myślę, da due soldi e la sua roba è stata di 2 Grazie a tutti. Grazie a tutti.